ciao e benvenuti di nuovo sul mio canale allora oggi come sempre come promesso eccoci al secondo appuntamento con la nostra challenge pulizie di primavera con gli oli essenziali allora come intanto sono seduta per terra davanti al sottolavello perché oggi andremo ad operare proprio qui e vi farò vedere gli oli essenziali anche che uso in questo in questo posto allora come sentite va già molto meglio il mio naso la mia diciamo influenza e per quello che dico che gli oli essenziali non sono solo per profumare ma per tante 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 cose tra cui anche fare le pulizie allora andando avanti mi raccomando seguite fino alla fine il video però già vi dico come ieri che in descrizione ci sarà il link diretto per l'acquisto dei diciamo degli oli che uso in questo specifico video e altrimenti se vorrete poi farne uno più avanti personalizzato in base a quello che vedete nei miei prossimi video della challenge mi scrivete poi in privato e ne facciamo uno totalmente personalizzato e ricordo anche che il link è fatto apposta per le persone non ancora con il codice non ancora iscritte in doterra e quindi logicamente chi ce l'ha già il il codice può sfruttarlo a proprio piacimento personalmente allora adesso stacco un attimino e vi faccio vedere gli oli essenziali che userò per questo lavoro scusate ma quando faccio le riprese sono metto sempre la telecamera qui modalità proprio molto provvisorie traballanti allora io oggi andrò ad utilizzare innanzitutto un pannetto in microfibra già bagnato io l'ho già bagnato sotto l'acqua calda e poi andrò ad usare diciamo questi oli si possono usare sia insieme ma anche separati quindi se uno vuole o la miscela puri fai e ricordo le nostre praticamente le miscele sono proprio sinergicamente studiate da do terra per funzionare alla grande molto potenti tutte insieme quindi questa qui è una miscela di oli altrimenti si può fare semplicemente con il limone e il teatrì che ricordo antibatterico disinfettante e comunque sgrassante quindi potete usare o questi due o appunto in mancanza di questi due anche solo questa miscela io comunque sotto in descrizione vi metto tutti e tre nel link ok allora adesso cosa andiamo a fare andiamo a diciamo a ripulire sia la base che aspettate vi faccio vedere la base un pochettino sporca quindi andremo a lavare proprio la base e poi andrò a pulire dentro e fuori il cestino dell'immondizia il bidoncino insomma e poi vi faccio vedere come aggiusto dopo il tutto per finire il lavoro allora io vado a mettere il teatrì qualche goccia quindi abbondiamo anche e mettiamo anche il limone mettiamo tutte e due insieme vi faccio poi vedere cosa faccio dopo col purify invece con la miscela allora con questo pannetto intriso di oli e diciamo di acqua vado e incomincio a lavare la base scusate la schiena ok adesso ho passato la base adesso vado a pulire il bidoncino cosa faccio adesso ho già sciacquato ho tagliato le parti insomma che non vi interessano ho già sciacquato il mio pannetto sempre con l'acqua calda vado sempre a mettere il mio limone e ogni volta mi dimentico lo chiudo limone e teatrì che ricordo questi oli servono anche un pochettino come repellenti per gli insetti quindi benissimo dove c'è l'immondizia allora vado a prendere questo che diciamo che fa molto molto schifo adesso era un po' appunto per farvi vedere e niente pulisco il coperchio poi pulisco tutto dentro il bidoncino e poi vi faccio vedere il tocco finale logicamente poi passo anche le ante che anche queste sono un pochettino segnate sempre con l'olio essenziale di limone e di teatrì e poi andiamo al finale ed eccoci qui al passaggio finale allora ho pulito dappertutto non vi dico intanto che profumo di limone io lo adoro e il limone poi col teatrì sa proprio di fresco una freschezza a me piace tantissimo diciamo che i miei oli più utilizzati preferiti sono proprio il limone, il teatrì e la lavanda non sono mai senza questi tre assolutamente poi uso anche tutti gli altri però diciamo che i miei proprio che non ne posso fare a meno sono questi tre allora andiamo a prendere la miscela Purify allora qui c'è il vecchio quotidiano cioè un vecchio giornale di solito lo vado a mettere in fondo sotto il appunto dove andranno poi i sacchetti facciamo così, pieghiamolo così ok così non si sporca neanche tanto il fondo poi vado a prendere la mia miscela e ne verso un po' di gocce sul giornale proprio adesso la richiudo ok e vado a mettere questo vabbè non so come funziona da voi ma da noi sì vado a mettere questo dell'indifferenziato e questo dell'umido ok tutto bello profumato, disinfettato anti animaletti fastidiosi chiudo con il coperchio e il nostro sottolavello è pronto per essere ammirato solo da noi va bene allora intanto vi ringrazio di avermi seguito fino a questo momento se vi piace questo tipo di video mettete un bel mi piace iscrivetevi al mio canale e ci vediamo domani per un'altra pulizia del challenge ciao della challenge ciao